Ciao a tutti, io sono Stefano e oggi vi insegnerò il gioco del ricomponire forno. Quello che ci serve è un foglio grande oppure due piccolini, come preferite, un righello o una squadra, una matita, forbici con la punta arrotondata, quattro pastelli o pennarelli come preferite e delle formine da utilizzare, io ho preso degli oggetti che avevo in casa per poi andare a fare le nostre forme. Io scelgo il foglio grande, quindi i due piccolini li posso mettere da parte, andiamo a dividere in quattro il nostro foglio che andremo poi a tagliare con la forbice. Ok, su ogni foglio andremo a disegnare una forma geometrica diversa, io ho scelto una bella sfera, un bel cerchio, un quadrato, ho preso un cd. Un rombo che andremo a fare utilizzando il nostro righello. Si può fare tranquillamente facendo una croce e unendo poi i punti estremi. e un triangolo. Ok, ora abbiamo le nostre quattro forme geometriche, possiamo andare a colorarle. Io per velocizzare le ho già preparate e questo è l'effetto finale delle nostre forme. Ora andremo a dividerle con il nostro righello in nove quadratini, quindi andremo a dividere per tre per tre ogni lato. Quando abbiamo diviso in tre ogni lato della nostra figura, andiamo a unire con il righello i punti. Così poi andremo a tagliare le nostre forme. e svolgeremo questa operazione per ogni forma che abbiamo colorato. Andiamo a tagliare l'ultima figura. Una volta tagliate in nove caselle tutte le nostre forme geometriche, siamo pronti a tagliare e mischiarle. E provare a ricomporre tutte le figure. Ok, e potremo, anzi dovremo fare così con tutte le nostre figure. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un mi piace e soprattutto seguiteci su Facebook e Instagram nella pagina di Sportivamente Biella. Grazie, un saluto da Stefano e Leo. E da Leo. Ciao a tutti, buon divertimento.